Buon viaggio, bentrovati ancora dalla redazione di Firenze Smart Mauro Ciutini. Un incidente segnalato in A1 a Firenze Sud in uscita provenendo da Bologna. Sulla A12 un veicolo in avaria tra Carrara e Massa in direzione di Livorno. Prudenza alla variante di Valico in A1 prevista neve. Pioggia segnalata in A11 e in A12 si raccomanda la massima prudenza alla guida. I treni per le avverse condizioni meteo, la percorrenza sulla linea Siena-Grosseto è stata interrotta quest'oggi. E a causa sempre del maltempo, traghetti e collegamenti per le isole hanno subito variazioni e cancellazioni. È tutto per il momento. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.